Siamo sempre a Sandonà, Sandonà e Villeneuve, un gemellaggio nato più di 15 anni fa che ogni anno si consolida attraverso anche l'accoglienza di giovani studenti che arrivano nella cittadina del Basso Piave per un'esperienza lavorativa. Vediamo di che cosa si tratta nel servizio. Il gemellaggio tra paesi è un legame simbolico stabilito tra due comuni appartenenti a stati diversi che hanno nelle loro storie o origini punti in comune nei quali riconoscersi. A tale scopo le varie amministrazioni portano avanti una serie di iniziative per rafforzare il rapporto tra i due gemellati e sciogliere le frontiere non solo formalmente ma con la conoscenza e l'interesse reciproco. È il terzo anno, questo, che la città di Sandonà di Piave ospita gli allievi stagisti francesi della scuola di Villeneuve durante tutto il mese di marzo. I sei stagisti di quest'anno, accompagnati e seguiti ogni giorno dai loro professori, sono stati accolti da alcune aziende sandonatesi del settore della cultura floreale dove hanno potuto acquisire una nuova esperienza lavorativa e nuove tecniche di preparazione. Gli stage lavorativi rientrano tra gli obiettivi principali del gemellaggio stipulato ormai 16 anni fa tra le due città perché consentono ai giovani di fare un'importante esperienza in Italia o in Francia, importante non solo per la crescita professionale e scolastica ma anche per la loro crescita umana e sociale. I ragazzi e le ragazze hanno potuto conoscere le nostre realtà produttive e commerciali, ma anche la città, il territorio, le bellezze di Venezia e di tutta la provincia e imparare anche la nostra lingua. Il gemellaggio italo-francese continuerà a investire nei giovani perché solo attraverso di loro passa la cultura dell'accoglienza reciproca, dell'apertura alla diversità e dell'appartenenza all'Europa delle persone. E l'anno prossimo la scuola di Villeneuve ha previsto di fare l'esperienza di stage agli allievi del settore agroalimentare, sempre a San Donà, durante il mese di febbraio e già numerose ditte si sono subito dichiarate disponibili all'accoglienza. Grazie.